Dopo l'installazione della colonnina Evo da parte di Convergenze SPA lo scorso sabato, le iniziative intraprese obbligano a creare una città virtuosa. Lo sottolinea Tony Aloia, sindaco di Vallo della Lucania. Dopo la firma per il patto dei sindaci che si tenne a Bruxelles, ricorda il sindaco Aloia, ci siamo allineati ai valori fondanti dell'Europa dal punto di vista ambientale. Infatti stiamo cercando di far diventare Vallo della Lucania una città sostenibile capace di pensare anche alle future generazioni. Stiamo percorrendo questa strada virtuosa a mio avviso. Quello di oggi è un altro tassello in questo importante mosaico che stiamo cercando di creare. Un mosaico fatto di tanti tanti tasselli che hanno un unico obiettivo, portare la città a essere una città sostenibile. Una città vuol dire dove la prima, la priorità è l'ambiente e dove le politiche sono tutte orientate per creare non solo una città bella, pulita ed accogliente che tra l'altro è una città in cui tutti quanti abitiamo bene ma anche una città capace di attrarre sempre di più turisti, sempre di più persone. Ma dicevo una città sostenibile capace di pensare anche al futuro, alle future generazioni, quindi lasciare alle future generazioni una città in cui si può vivere con tranquillità, una città in cui è bello vivere. E poi siamo una realtà parco, siamo una città del parco, una città importante di questo territorio. Sono una serie di cose che ci obbligano necessariamente a creare una città virtuosa. Noi ci stiamo provando con tutti i nostri sforzi senza clamore, facendo le cose quotidianamente, le piccole cose in modo da potersi poi trovare una città trasformata. E dico la verità, le persone che anche quest'estate hanno raggiunto questa città ce ne rendono atto e ci inorgogliscono perché dicono che la città è cambiata, la città è molto più accogliente, la città è bella da visitare.